Dal 1959 al 1964, la prima domenica di maggio, a Potenza Picena, si festeggiava la Sagra dei Piselli per celebrare uno dei prodotti più importanti del nostro territorio, il ricercatissimo Pisello di Montesanto. Potenza Picena era uno dei maggiori produttori marchigiani. Il Pisello di Montesanto, in latino pisum sativum, è una specie di Pisello rampicante, cosiddetto infrascato, che veniva coltivato nelle colline della Campagna Potentina, su terreni rivolti verso sud, leggeri e sabbiosi, e riparati dal vento. I suoi acini sono molto piccoli e dolci. Durante l'evento era possibile assistere alla sfilata dei carri e dei tradizionali birocci trainati dai buoi. Gruppi folkloristici marchigiani organizzavano balli e gare di saltarello lungo i vicoli del centro storico. In Piazza Matteotti avveniva poi la degustazione dei piselli cotti con la barbaglia in porchetta e pancetta, accompagnati da vini locali offerti dalla cantina dei Colli Potentini. La giornata di festa si concludeva con l'elezione di Miss Primavera e Miss Pisellina. A causa della difficoltà nel coltivare questo tipo di legume, però, per molti anni la produzione è stata interrotta. Ma oggi, grazie al ritrovamento di alcuni semi conservati da un agricoltore locale, la produzione è ripresa, restituendo alla comunità e a tutta l'Italia un'autentica prelibatezza della tradizione potentina.